La raccolta dei rifiuti inciderà un po' meno sulle tasche dei palermitani che quest'anno pagheranno dal 5 al 7% meno rispetto agli importi dell'anno scorso per le utenze domestiche e del 6% in meno per le non domestiche. Lo ha annunciato l'assessore comunale al bilancio Luciano Abbonato illustrando il rendiconto di gestione 2014 del Comune appena approvato dall'Aggiunta proprio insieme alle nuove tariffe Tari. Dall'imposta sui rifiuti l'amministrazione conta di incassare quest'anno 122 milioni di euro contro i 128 del 2014. Il tariffario dovrà comunque ricevere l'ok del Consiglio Comunale. Il 16 giugno scade il termine per il pagamento della Tari in un'unica soluzione e chi sceglierà questa formula dovrà pagare secondo le tariffe vigenti, cioè quelle del 2014. Avrà però diritto al rimborso a ottobre perché nel frattempo a Sala delle Lapidi sarà stato approvato il nuovo tariffario. Insieme alla sforbiciata però scattano anche i controlli. 9.000 accertamenti sono pronti a partire entro luglio per scovare gli evasori ed è da qui che il Comune conta di recuperare circa 15 milioni. Sul fronte delle finanze da Palazzo delle Aquile arrivano notizie rassicuranti tanto che lo stesso sindaco Orlando parla di uscita dal tunnel e di conti a posto, soprattutto nelle partecipate. Tutto questo nonostante i pesanti tagli dei trasferimenti ai comuni precipitati, nel caso di Palermo, da 416 a 175 milioni. Il rendiconto si chiude con un avanzo di 80 milioni di euro, un calo dei residui passivi di 60 milioni e il taglio di 15 milioni alle spese correnti. Ma a diminuire drasticamente sono anche i fondi per gli investimenti, il che significa minori servizi per la città. Una realtà che al di là dei conti di bilancio, i palermitani vivono sulla propria pelle ogni giorno.